Grazie a tutti. Animali, vegetali. Ma mentre le persone, i cani, i gatti, i fiumi, gli alberi, le piante scorrono, i luoghi riescono a contenere impercettibili frammenti di umanità. Polvere. Senz'altro polvere che mischiata tutto ciò che è passato da qui, da luogo a usanze, tradizioni, modi di dire, di fare. E come degli indissolubili involucri passano di bocca in bocca, anno su anno, secolo dopo secolo. E poi all'improvviso restiamo inermi, sconfitti, sopraffatti da quel che è vero mischiato al falso, e non c'è un modo per distinguere il confine della realtà. E allora massima attenzione, signori trasportatori di traiettori invisibili, perché sta per nascere un momento qualunque diventato poi storico. Nella natura umana non c'è spazio per i racconti comuni. E se poi tutto nasce da una storia d'amore controversa, niente e nessuno potrà resistere al fascino di qualcosa di irrisolto. Grazie. 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 Rulienziger, mi piace, è esattamente come l'ha immaginato. Un pieto e piacevole villaggio, non troppo grande, il posto perfetto dove un nuovo insegnante può iniziare la sua carriera. Beh, a dire la verità, ho già passato qualche anno in una piccola scuola elementare di Mosca, insegnando ai parvoli le nozioni fondamentali, ma questa è la mia prima nomina professionale ad insegnante di ruolo. Non avevo mai sentito parlare di Cuglienziger, fino a quando non ho letto sul giornale universitario l'avviso del dottor Zubrischi. Sebbene il posto fosse un remoto villaggio ucraino, ho colto l'occasione e non mi vergogno di dirvi che il mio cuore batte citato. Ho questa passione e non ho timore per l'insegnamento latino, greco, astronomia, letteratura. Non vedo nessuno in giro, forse sono arrivato un po' presto. Sapete, io sono una di quelle persone estremamente impaziente ed entusiaste che la mattina si alzano all'alba, pronte per iniziare il proprio lavoro. Questo è un giorno molto fausto della mia vita. Oh, scusate, un indigiano. Buongiorno. Buongiorno. Avete visto per caso due dozzine di pecore? Due dozzine di pecore? Sì, erano quattordici per esattezza. No, mi dispiace. Beh, se le vedete potete dare loro un messaggio da parte mia. Un messaggio per le pecore? Sì, ditele che il pastore le sta cercando. Se le possono dire dove sono, almeno li vado a prenderle. Aspetta, aspetti, mi scusi. Sì, qual è il suo nome per cortesia? Snesky. E il nome di battesimo? Quanto tempo ho per rispondere? Lasci perdere, dimentichi il nome di battesimo. Quello che ho fatto. Io sono Leon Stepanovich Tolcinski e sono il nuovo insegnante. Io sono qualcosa. Qualcosa Snesky. Si ferma il paese stanotte? Non capite. Qui è il Cicchep sarà la mia nuova casa. Vivrò e insegnerò qui. Io sono... Modesti a parte è un'eccellente insegnante. Ah, ma lo sono tutti. Ne arrivano a migliaia. Ma non uno di loro si ferma più di una notte qui. Avete avuto migliaia di insegnanti? Di più... Centinaia. Ma siamo tutti incapaci di imparare. Siamo tutti stupidi in questo paese. Non esiste un villaggio più stupido di tutta la madre Polonia. Russia. Quello che è? Tutta brava gente? Intendiamoci, ma... Senza un briciolo di cervello dentro di loro. Mi sta forse dicendo che qui ogni uomo, donna e bambino? Tutti stupidi. Compreso me. Ma se parliamo altri dieci minuti te ne renderai conto. Sono stato assunto da dottor Zubrilsky per insegnare alla sua giovane figlia. La sua giovane figlia. Diciannove anni è un caso disperato. Ha imparato da poco a sedersi. Non distingue nemmeno... Non sai nemmeno distinguere una vacca da una papera. No, che sia un argomento facile, eh. Tendiamoci. C'è qualcosa di strano qui. Non pensavo niente del genere quando lo lessi per la prima volta. Notai che ogni parola era piena di errori di ortografia. Certamente il dottor Zubrilsky mi spiegherà tutto. Mi siete stato molto di aiuto, Snesky. È stata un'interessante conversazione. Non solo lui può riflettere. Anch'io posso riflettere allo stesso modo. Il problema è che quando rifletto non riesco mai a trovare nulla su cui riflettere. Bene, devo andare in segnata a rivederci. Sono sicuro che ci rincontreremo. Oh sì, mi conoscono tutti. Sono Snesky, il perdi pecore. Sono le nove. E tutto va bene. Sono le nove, Acquilienciker. E tutto va bene. Sono le nove. E tutto va bene. Non sono più tanto sicuro che questo sia il giorno più fausto della mia vita. Buongiorno Postino. Buongiorno Sarta. Splendida giornata, vero? Ah sì, lo è. Non ci ho ancora guardato. Ah sì, soleggiata, molto bella. Ho della posta? Eh no, sono io il postino. Ce l'ho tutta io la posta. Mia sorella che vive ad essa sta molto bene. Speriamo di sentire queste notizie. Eh, da qui adesso è un po' difficile sentire. Però forse le ha scritte una lettera. Ci guardo. Pesce! Pesce fresco! Buongiorno. Del merluzzo per il vostro pranzo. Buongiorno, Yerza. Buongiorno. Prendete un po' di merluzzo. Non è un pesce stupendo? Che sento pesce? Quelli, sono io. Oggi non hanno preso niente. Perché dovevo rimetterci io per il fatto che il pescatore ha avuto una brutta giornata. Ma assaggiate la carpa. Ha un sapore delicato. Non ci sono lettere di sua sorella Slovich. Però ha una bellissima lettera del cugino del calzoraio. La gradireste? È malato? Odio leggere cattive notizie. Ma che dice? Guardi, è in ottima salute. La prenda, non se ne pentirà. Ma cosa? Mia figlia non mi scrive da più di un anno. Lo sapete? E non vive con voi, vostra figlia? Fortunatamente sì. Altrimenti non avrei avuto mai sue notizie. Buongiorno, gente. Io mi chiamo Leon Stepanovich Stolcinski e sono il nuovo insegnante. Mischkini, il pastino. E Slovich, la sarta. Viacce, una venditrice. Felice di conoscervi. Stavo giusto parlando con un pastore di nome Snezki. Ah sì, qualcosa. Qualcosa Snezki. Lo conosciamo bene. Era piuttosto cordiale, sebbene, e spero di non apparire indelicato, la sua prontezza mentale potesse sembrare in qualche modo deficiente. Sì, sì, è proprio Snezki, è proprio lui. È stato colgito alla testa dal calcio di un cavallo. Oddio, mi dispiace. Vattedì e mercoledì due volte. E il venerdì e il sabato per tutto il giorno. Che merce fragrante vendete, signora. Potrei comprarne una per il mio datore di lavoro. Quanto costa, no? Il merluzzo due rubli e la carpa tre. Prego. Se è troppo, vi posso dare questo pesce bianco soltanto per un rublo. Il dialetto deve essere leggermente diverso in questa zona della Russia. Sono entusiasta di cominciare il mio nuovo lavoro. Potresti essere così gentili da indicarmi la direzione per la casa del dottor Zubrisky? Grazie. Prenderò una di queste direzioni. È stato un piacere conoscervi. Oh, Snezki, è di nuovo lei. Ha ritrovato le pecore? Non ancora. Ma chi è questo? Il nuovo insegnante. Un altro. Ne ho incontrato uno pochi minuti fa. Ci deve essere un congresso. Il conte Lusevich, lì sulla collina, non sarà felice a questo proposito. È vero. Al conte Lusevich non piacciono i nuovi insegnanti. Perché? Perché ha paura che spezzino la maledizione. Quale maledizione? Quella che ci ha reso stupidi fin dalla nascita. Ah, quella maledizione. Eh sì, io sono stupido da 51 anni e tu, Snezki? E a lui io ne faccio 43. Bravo, e tu, Slovich? 41. E tu, Jezna? Ho appena svoltato l'angolo dei 26. Quell'angolo deve essere a circa 40 chilometri da qui. Eh? Quell'angolo deve essere a circa 40 chilometri da qui. Quell'angolo deve essere a circa 40 chilometri da qui. Chell'angolo deve essere a circa 40 jeton. Ma se non regalare una parla. Eh? Qu 과 thể,'angolo deve essere a circa 60 batteri da qui. K, E, 5, L, S, A Ho detto giusto, dottore? Non lo so Ma pulsa bene Sì, sì, è un suono interessante Ma, tuoi buona salute, vero? Ottima Perfetta salute Vivrete fino a 80 anni Oh, molto bene Devo essere in forma Sono un magistrato La legge e l'ordine vanno custoditi Quanto vi devo, dottore? Oh, niente, lasciate perdere Se un giorno riuscirò a frequentare La facoltà di medicina Mi potrete mandare qualcosa Va bene, grazie Arrivederci Arrivederci Nicolai Nicolai è qui È giovane Sembra forte e determinato Nicolai Forse è la nostra salvezza Forse è la nostra salvezza finalmente Calma, Tilenia Chi è arrivato? Chi sarà la nostra salvezza? Quello nuovo Il più nuovo Loro No Eh sì E dai Quello che avevamo prima Ma ora non più Oddio So cosa vuoi dire Loro hanno un posto E poi tu vai in quel posto E loro ti indicano E ti chiedono E ti dicono Se tu Egli E se tu non rispondi Loro ti fanno Perché non rispondi? Ed è lì e fuori Sì È giù Mostranelo Mostranelo E prego Dio Chi sia quello che libererà noi E tu A Kuliencikev Da questa troce Da questa troce Oddio cos'è che ci hanno fatto? Dottor Zubrisky Signora Zubrisky Sono felice di essere a Kuliencikev Io sono Leon Stefanovic Stolcisky Così lei è il nuovo Il nuovo Sì Lo sono E lui Lania Il nuovo Il nuovo Ma non è troppo giovane Per essere il nuovo Il nuovo Beh Credo che scoprirete presto Che io modesti A parte Sono uno dei migliori Vorrei sembrare Immodesto No prego Sì è immodesto Noi amiamo L'immodestia Sì è immodesto Il migliore Che? Il migliore insegnante Di tutta la Russia È un insegnante Un insegnante Un insegnante È un insegnante È un insegnante Un insegnante Grazie Sono commosso Da questa calda Ed esagerata accoglienza Faccia come se fossi A casa sua insegnante Si levi la giarta Insegnante Lenia Porta una tazza di tè All'insegnante Si sieda Si sieda insegnante Gradisce nel tè Insegnante O forse Carta e penna Insegnante Magari Gradirebbe Iniziare subito Ad insegnare Insegnante Oh nessuno È più entusiasta di me Ah signora Zubrischi Questi sono per lei Del pesce bianco Del pesce bianco L'ho visto oggi al mercato Grazie Come posso essere di aiuto Insegnante? Beh ci sono delle domande Che vorrei porvi subito Domande? Ecco cosa chiedono Quando ti chiamano E tu non lo sai Lui lo sa Lui sa che domande sono Posso dire con certezza Che diventerà un ottimo insegnante Sarebbe così gentile Insegnante Da farci una domanda Una qualsiasi domanda È da tempo che nessuno ci fa Una buona domanda scolastica Beh non so Ci sono domande e domande Volete una domanda di matematica Una domanda inerente alla scienza O forse una domanda filosofica La prima suona bene La domanda filosofica Chiedeteci quella Come volete Qual è lo scopo Dell'esistenza umana? Che domanda Lenia Hai mai sentito Una così simile Stupenda domanda? Sono senza parole Pensare che qualcuno Avrebbe fatto a noi Una simile domanda Vi interessa la risposta? Non oggi grazie Una domanda come questa Una domanda come questa Nell'arco della vita È più di quanto Mi sia mai aspettato La risposta dovrebbe darla A qualcuno molto più valido Di noi Ma è un vostro diritto La conoscenza È il diritto Di qualsiasi persona Qualsiasi persona Che non è nata Cuglienci Non capisco Non avete mai sentito Parlare della maledizione Di Cuglienci Che non posso dirlo Non potete dirlo Non è così difficile Persino Lenia può dirlo La maledizione Di Cuglienci Che cos'è questa Maledizione Dottore? Duecento anni fa Il villaggio di Cuglienci Fu colpito Da una maledizione Che investì Ogni uomo Donna Bambino E animale domestico E che avrebbe incluso Tutte le generazioni Avvenite Lasciando ognuno di loro E questo potrà certo Sembrarvi incredibile Con un'intelligenza Non superiore A un bitorzolo d'albero Posso credere Alle maledizioni E poi Chi avrebbe inflitto Una punizione così crudele A un villaggio Tanto semplice E pacifico? Chi è stato? È tutto documentato Nel libro delle maledizioni Leggete Leggete La pagina È contrassegnata Ma È tutta appiccicata L'abbiamo contrassegnata Con dello sciroppo d'acero Leggetela La mattina del 2 aprile 1691 Nel villaggio di Cuglienci Due giovani si innamorano Perdutamente Lo sapevo Quando due giovani Si innamorano Non sei pur certo Che ne aveva una maledizione Ma davvero avete già sentito Questa storia? Molte volte Ma non l'abbiamo mai capita E poi che succede? Il ragazzo Era un giovane molto bello Ma era un contadino ignorante Di nome Casimir Jusekiewicz La ragazza Era la figlia Del cittadino più colto Mikhail Zubrinsky Zubrinsky Io ho già sentito Questo nome Io l'ho visto Io l'ho visto Su una porta d'ingresso Da qualche parte In questo vicinato È la vostra Porta d'ingresso Il vostro cognome È Zubrinsky Continuiamo Il nome della ragazza Era Sofia Zubrinsky Posso chiedere il nome Della sua giovane figlia Sofia? Sofia Sofia Zubrinsky Lo stesso nome Della ragazza Della maledizione Di 200 anni fa Aspetto immattivo Non ci posso credere A meno che Nostra figlia Non ci stia mentendo Circa la sua verità La tragedia Iniziò presto Quando il colto padre Di Sofia Scoprì che il giovane Casimiro era ignorante Proibì a Sofia Di rivederla Sei mesi più tardi Sofia sposò Uno studente E in quello stesso inverno Casimiro Turbato e disperato Si tolse la vita Quando ebbe la notizia Della morte del figlio Il padre di Casimiro Vladimir Iusekievich Il padre di Casimiro Vladimir Iusekievich Che faceva tremare la gente Se solo udiva menzionare Il suo nome E la prossima volta Non lo do Il padre di Casimiro Vladimir Iusekievich E voi sapete chi? Anche conosciuto Come lo stregone Per la sua abilità Di conoscere I poteri Del demonio stesso Mandò tutta la sua rabbia E la sua furia Sul villaggio di Kuliencich Eccolo Eccolo Una maledizione Una maledizione Su tutti gli abitanti Di Kuliencich Urlò Possa la figlia Di Mika Izubrischi Assassina Del mio unico figlio Essere colpita Dall'ignoranza Che fu causa Della sua morte Possa la stupidità Inghiottire il suo cervello Possano i suoi figli Essere anche loro maledetti E possano tutti Gli abitanti di Kuliencich Nascere e morire Nell'ignoranza Incapaci di lasciare Il villaggio maledetto Finché la mia vendetta Non sarà Finalmente Soddisfatta E questo spiegherebbe Perché il treno Non ferma qui Il mio impulso iniziale Era il panico Anche il mio secondo impulso Era il panico Educare È una cosa Spezzare i sortilegi Un'altra Scusate Va tutto bene Maestro Torcinski Sì Tutto bene Stavo solo pensando Legna Stava pensando Stava pensando E cosa vuol dire esattamente? Non sapete che cosa è il pensare? No E senz'altro neanche Legna lo sa Sta calmo Leon Sta calmo Pazienza Spezzeremo la maledizione Ve lo prometto Con il semplice Quotidiano lavoro Dell'educazione E dobbiamo cominciare subito Vorrei iniziare Conoscendo vostra figlia La giovane Sofia Sofia? Certo Se la maledizione È iniziata 200 anni fa Con la giovane Sofia Zubrischi Molto probabilmente La chiave di tutto Sta proprio in vostra figlia Non è qui È in camera sua Fai ciò che ti chiede l'insegnante La ragazza signora per favore Ricordati su per le scale E poi a destra Troverete Che è una ragazza delicata e sensibile Non come gli altri del villaggio Lei è piena di interessi È sempre occupata Occupata in cosa? Oh Le piace interessarsi di cose interessanti Come toccare le cose La carta Il legno Il metallo Le piace bere l'acqua Maestro Dolcinski Posso presentarle la nostra figlia Sofia Irena Zubrischi Sofia il maestro Dolcinski Signorina Zubrischi Incartato Sai cosa stava facendo Sofia? Pensava Non è stupendo Sì mamma Papà Lei è la mamma Io sono il papà Si vuole sedere signorina Zubrischi L'ha fatto L'ha fatto Non si è seduta Magnificamente Sì Molto brava Adorabile Signorina Zubrischi Posso chiamarla solo Sofia Sofia Di siccala di Sì Puoi chiamarmi Sofia Per favore Dobbiamo permettere alla ragazza di parlare da sola Sofia vorrei essere tuo amico Mi dispiacerebbe se ti chiamassi solo Sofia È molto tempo che non è sotto esame Credo che voglia dire qualcosa Sarei molto onorata se lei mi chiamasse Sofia Ci siamo Ci siamo Sono così orgogliata Prego Così le fate perdere la concentrazione Sofia Io sono venuto da molto lontano per aiutarti nella tua educazione Dovendo occuparmi della tua educazione Devo capire che cosa stai facendo E io sono convinto che dentro di te c'è un intelletto che grida per essere ascoltato E che ti dà un enorme potenziale per ragionare Ma qualcuno ha annebbiato questa facoltà Ed è mia ferma intenzione rimuovere questa nebbia E fare in modo che la luce Che una volta Splendeva in questi bellissimi occhi neri Splenda nuovamente Ma per farlo Ho bisogno del tuo aiuto Vuoi darmela? Darmelo! L'aiuto! Sì Potete chiamarmi Sofia L'ha detto L'ha detto di nuovo Bene Venti Fila Adesso ti porrò alcune domande Dovendo occuparmi della tua educazione Devo capire da quale livello partire Stai tranquilla Non ti esamino Non vorrei che il tuo viso apparisse accigliato E vediamo Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito? Sì Il bianco, il giallo, il rosso Qualsiasi colore? Qual è il tuo colore preferito? Lo sapevo una volta Te lo chiederò ancora una volta Qual è il tuo colore preferito? Non sia così severo Questa non è l'università Il mio colore preferito? Sì È il giallo Giallo? Ah il tuo colore preferito è il giallo E perché Sofia? Perché è proprio il giallo? Perché non si incolla le dita Occidente Ha sbagliato Credo che sia il verde quello che non incolla le dita Questa è una risposta molto interessante Adesso ti porrò un'altra domanda Ancora più semplice Ti chiederò di esprimere un desiderio Lo sai che cos'è un desiderio? Un desiderio è qualcosa che desideri e che non si avveri No, forse possiamo cambiare tutto ciò Se tu potessi esprimere un desiderio che si avverasse Che cosa vorresti che fosse? Cosa Cosa desidero? Cosa desidero? Cosa desidero? Io desidero volare come l'uccello Per volare palazzi e alberi Navigare nel vento Ed essere portata via Oltre le foreste e i laghi Oltre le montagne e i pioni E conoscere le persone degli altri villaggi Sapere ciò che non potrò mai sapere Perché devo rimanere per sempre In questo posto Sofia Ma questo è il desiderio più bello che io abbia mai sentito Ma non capite cosa significa il suo desiderio? Volare come un uccello significa staccarsi dai legami Che la tengono incatenata all'ignoranza Lei vuole crescere Lei vuole la conoscenza E con ogni fibra del mio essere Dal profondo della mia anima Io raccoglierò tutta la mia forza e la mia pazienza Per esaudire questo desiderio Io, Leon Stefanovic Solcinski Per chi esaudirò i desideri di Sofia Zubristi? Se puoi fare questo insegnante Ti sarò più felice per sempre Mi commuovo Vostra figlia ha un'anima così dolce Un cuore così puro Non dobbiamo perdere altro tempo Dobbiamo iniziare subito Con quale materia vorresti iniziare gli studi Sofia? Con le lingue Le lingue ma certo Avrei dovuto pensarci subito E lingue saranno E con quale lingua mia cara dolce Sofia vorresti iniziare? Coniglio Coniglio? È un linguaggio difficile quello del coniglio È difficile va a tutti parlarlo Sì Basterebbe imparare qualche frase semplice per iniziare Ho finito per oggi? Sì Allora me ne vado in camera mia Ho trovato la porta Ho trovato la porta Fallo ancora Sofia Insegnante? Sì? Sei il più migliore insegnante che io avessi mai visto Ha ritrovato la porta Ha ritrovato la porta Non ho mai visto Sofia così radiosa Lenia Stai pensando anche tu quello che sto pensando io? Non sto pensando cosa sto pensando Ma che dici? Credo che Sofia si sia presa una cotta Per il nuovo Il nuovo Dottor Zubrisky Se questo è vero Avete di fronte a voi l'uomo più felice del mondo Più felice dell'universo Ma ditemi Ha qualche pretendente? Ehm Avete mai sentito parlare del conte Gregor di Cuglienci? Non posso dirlo Non potete dirlo? Ma non è difficile eh Guardate Che fino a lega non dirlo Conte Gregor di Cuglienci? Sì sì Lo posso dire Chi è? È uno di loro Uno di quelli che ti ha maledetto Volete dire Unjusekiewicz L'ultimo della firme Ditemi di lui e di Sofia Il conte le chiede due volte al giorno di sposarlo Due volte al giorno? Alle sei o quattro al mattino E alle sette e venti al pomeriggio A lui interessa solo La vendetta dei suoi antenati Se una Zubrisky sposa Unjusekiewicz Loro saranno soddisfatti E la maledizione? Finita Ma a Sofia interessa il conte? Sofia lo ha ripiutato per molti anni Ma non può resistere ancora a lungo La povera ragazza vorrebbe dormire fino a tardi perlomeno una mattina Che tipo di uomo è il conte Gregor? Come lui Due braccia Due gambe Volete dire che anche lui è maledetto Vive ancora a Cuglienci E non gli è permesso di andarsene Capisco L'idea di avere un rivale mi rende ancora più determinato nello spezzare la maledizione Dio vi benedica per la fiducia che riponete in me Da domani vi assicuro che comincia l'educazione di Sofia Zubrisky Nell'eccitazione ho dimenticato di chiedervi dove potrò esercitare Oh, non ci sono problemi Qui starete comodi Benissimo A domani allora Insegnate Dolcini Sarebbe così gentile da farci un'altra domanda Sa, per noi è così importante Ma certamente Qual è lo scopo dell'esistenza umana? Mi sento soffocare perché gliel'ho chiesto Un momento Un momento Credo di saperlo Credo di conoscere la risposta Lo scopo dell'esistenza umana Di che stai parlando? Veramente La prima volta che ho sentito la domanda non avevo capito bene Ma ora ho sentito improvvisamente qualcosa dentro Conosco i miei limiti Ma credo veramente di conoscere la risposta Foraggio dottore coraggio Mi dica quale fessa che sia la risposta Credo Dodici Dodici? È sbagliato Lo vedo dal vostro viso Quattordici Credo proprio di non aver centrato il bersaglio È in meno di cento Questo lo so Non sono così stupido eh 83 44 Ne riparleremo quando tratteremo la filosofia Adesso non ci pensate Andate a dormire A domani Buonanotte Ma perché vuoi avere sempre le risposte? Le domande non sono già tanto belle così come sono Dodici? E se avessi avuto ragione? Potevo vendere la risposta Avremmo potuto farci una fortuna Grazie Grazie eccomi sto partendo perciò ho pensato di salutarvi volevo rimanere per tentare di spezzare la maledizione ma quando lui ha detto 12 ho capito che era tempo di partire adesso devo solo tentare di dimenticare sofia devo dimenticarla sofia dove sei so che qualcosa che è successo tanto tempo fa mi impedisce di sapere ciò che è successo tanto tempo fa ma se solo tu mi conoscessi nel modo in cui potrei essere invece che nel modo in cui sono ma se tu non fossi nel modo in cui sei io non sarei mai venuto qui per cercare di farti diventare nel modo in cui dovresti essere attento stai cominciando a pensare come lei potresti potresti mai amare qualcuno che non diventerà mai come potrebbe essere potrei mai amare qualcuno che non potrebbe diventare ah ah sì ho capito ho capito cosa vuoi dire ma sì ma sì lo vorrei lo potrei lo farò lo vorrò lo potrò lo faccio lo so stai parlando con il linguaggio del coniglio è difficile da seguire se ti sembra che io e mezza sono i strani è perché tu mi emozioni sofia a volte quando i pensieri provengono dal cuore camminano in mezzo alla lingua allora starò attento a dove cammino buonanotte leon devo andare tutto dipende da domani se falliamo non ci rivedremo più non ci rivedremo più che vuoi dire non so mai cosa voglio dire ho dei pensieri che mi frullano in testa ma sembrano sparire quando raggiungono le mie labbra se io raggiungessi le tue labbra non potrei mai scomparire ti piacerebbe baciarmi con tutto il mio cuore no io intendevo con le labbra sì mi sembra un'ottima proposta baciami dolce sofia mentre ci baciamo sento una strana eccitazione nel mio cuore anche io anche tu senti una strana eccitazione nel mio cuore come siamo simili eppure i tuoi capelli sono molto più corti devo andare sto per addormentarmi e voglio raggiungere in fronte al mio letto so i pericoli che corrono dell'amare un'anima così semplice significherebbe una vita di dolce beata passione e conversazioni molto brevi a colazione voglio trovare un posto per la notte siete stato voi cosa? siete stato voi responsabili di questo rumore infernale certo che no questo era un tuono e chiunque sia renderà cattivo verso di noi il conte Iusekiewicz il conte Iusekiewicz? si vive da solo in cima alla collina ogni volta che sente uno di noi fare questo rumore ci getta addosso l'acqua no 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 sdielci questa è pioggia 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 allora ombrelli ombrelli comprateli ombrelli prima che lui ci getti l'acqua forza ieri città nessuno vi getta l'acqua questa è pioggia che cade dal cielo a causa della condensazione del vapore acqueo voi potete raccontarlo a questi stupidi ma non a me io una volta ero l'insegnante qualcuno può indicarmi un posto dove poter dormire questo succede? cos'è questo fratassi? lo sapevo lo sapevo che ci avrebbe gettato l'acqua ogni volta che lavo la mucca lui ci getta l'acqua Fischi ti puoi indicare il posto dove dormire oh oh è l'ora in cui il conto fa la sua proposta di matrimonio questa potrebbe essere la volta buona un suo sì e potremmo tornare tutti intelligenti tu vorresti che lei lo sposasse? no perché lei non voglia ovviamente però sarebbe carino ricordare il mio nome di battesimo ma è un terribile sacrificio da chiedere a Sofia e quale sacrificio vivere in una bella casa lì sulla collina mangiare gli amaretti ogni volta che se ne ha voglia e lavarsi i denti tutte le mattine con lo spazzolino ma lei lo ama? prego sì lei ama il conte noi non ne abbiamo non ne avete cosa? amore non capisco lo sento arrivare insegnante forse fareste meglio andarmene a lui non piace avere gente intorno 10 è vero che non può esistere amore a lui 10 non saprei mio marito è andato via da quasi 14 anni oddio mi dispiace molto già è troppo tempo per essere un semplice ritardo sto sudando freddo l'idea di perdere Sofia mi atterrisce cercherò di origliare sofia Sofia, dolce Sofia, alzati mia cara, è ora di proposta di matrimonio, dormi, forse questo l'aiuterà a svegliarsi. Chi è stato? Sono io, il conte Grega, Giusecchieric. Buonasera signore. Sono venuto per proposta di matrimonio. Tete in ritardo, sono già sposato da 26 anni. Nicolai, Nicolai con chi stai fermando? Sono io signora Zubrischi, il conte Giusecchieric. Sono venuto per chiedere mano di Sofia. A che te serve la mano di Sofia? Forse le sue non sono sufficienti? Mi scusita, devo andare a spengere la coperta in fiamme. Dovevo accendere qualcosa. Che succede mamma? Ti abbiamo svegliato tesoro. No, stavo leggendo la luce della coperta. Io devo essere pazzo a sposare uno di questa famiglia. Il conte voleva proporti di sposarlo. Vada avanti conte. Possiamo restare soli. No, credo che anche Sofia dovrebbe ascoltare ciò che deve dire. Molto bene. Sofia vuoi sposarmi? Mi dispiace conte, ma il matrimonio è davvero un passo enorme e non voglio affrontarlo mentre non ho l'intelligenza per rendermi conto di che tipo di passo sia. Non mi arrendo facilmente. Sarò di ritorno domani mattina. Sì. Buonanotte conte. Buonanotte mamma, buonanotte papà. Buonanotte angioletto. Però finisci di leggere, spengi la coperta. Non mi arrendo facilmente. Sarò di ritorno domani mattina. Sì. Averli come parenti in una maledizione è peggio della maledizione stessa. Prego iddio che non accada mai. Chi è là? Chi è qui? Tieni fuori. Mi perdoni signore. Ero di passaggio. Mi posso presentare? Io sono... Ma io so chi sei. Tu sei il nuovo insegnante che tenta in modo patetico di spezzare la maledizione di Culenci. Sono appena stato testimone del vostro patetico tentativo di avere Sofia. Vedete, la maledizione si spezzerà solo se voi potrete educarla. E voi non potete. L'unica alternativa è che lei sposi me. Apparentemente però lei non vuole sposarvi. Perché non vi cercate un'altra ragazza? Ma perché Sofia è stupenda. Tu non hai visto le altre ragazze in villaggio? Assomigliano a me. Per essere un uomo così potente e possente. Dimostrate un'insolita mancanza di autostima signore. Mi dispiace per voi. Buongiorno. Non buongiorno. Un giorno. Prego. Voi non sapete che se resterete anche solo un secondo in più del consentito nel nostro villaggio. Sarete voi vittima della maledizione. Adoro questa parte. Non posso credere ad una simile assurdità. Minacciatemi pure. Io non me ne vado. Io amo Sofia Zubrischi. Amore. Ma non esiste amore qui. Fa parte di maledizione. Volete dire che Sofia non può amare? Avete un solo giorno signore per trovare la soluzione. 25 misere ore. 24. Cosa? Ci sono 24 ore in un giorno. Forse vi riferite a febbraio. Vi state confondendo. Buonanotte signore. Sarà bene? Se non riesco ad insegnare a Sofia a pensare in 24 ore, lei non potrà mai amarmi. Leon! Sofia, stai bene? Posso parlarti in un posto dove non ci vedano? Sì, certo. Quando? Adesso? Sì, certo. Dove? Può essere qui? Sì, certo. Sono qui. Dimmi. Ho ascoltato la conversazione con Icon. Leon, io sono incapace di imparare. Devi andartene subito da Cuglienciker. Mai senza di te. Allora partimi con te stanotte. E la maledizione? Non può essere spezzata. Ma noi possiamo vivere nella palude, cimandoci bacche e radici. E io diventerò più brutta e più vecchia. E sarò sempre stupida e ignorante. E non potrò amarti mai. Ma almeno staremo insieme. Non è precisamente quello che avevo in mente. Allora siamo perduti. No, no, Sofia. Ti insegnerò. Spezzerò la maledizione. Domani. Te lo prometto. Vorrei amarti. Lo farai. Domani. Lo prometto. Ho paura. Non avere paura, Sofia. Leon, se potessi solo per un giorno conoscere il sentimento di amarti, sopporterei cento anni di maledizione. Buonanotte, Leon. Che Dio ti benedica. Lei non mi chiede di essere amata. Lei mi chiede di conoscere cosa significa amare un'altra persona. Sono capitato in un posto speciale. Amo Sofia. Amo Jens. Amo Zniewski. Amo tutti qui. Che Dio mi dia la forza per spezzare la maledizione per tutta questa gente. Speriamo che vada tutto per il meglio. Leon, dimmi chiediamo di dire... No, Sofia. Domani. Non sopporterei altre notizie stasera. Domani. Domani. Non sopporterei. Domani. Non sopporterei. ora gentile pubblico mi chiederete io e lui noi due chi siamo ora il problema è i primi a essere confusi siamo proprio noi effettivamente parlare non si parla mai questo regista due battute ce le poteva chiedare forse forse non siamo reali siamo delle ombre proiezioni di un'idea così mi fai paura io gli fa paura bellino lui pensaci bene che ricordi hai delle nostre vite prima di salire su questo eravamo in uno stanzone tutti insieme si rideva si scherzava con gli altri attori era al seminterrato dove facevamo le prove dello spettacolo ma prima di questo vuoi dire noi noi siamo l'idea del regista la paura dell'attore imprevisto l'improvvisazione eppure mi sembra tutto così reale perché lo spettacolo ancora non è finito e quando sarà finito quando sarà finito noi saremo il ricordo la critica o il sorriso che lo spettatore svolterà dietro sarà un bel ricordo vero questo dipenderà da molti fattori e allora diamoci da fare via scusate ma voi ci sentite ci vedete allora non vi allontanate che tra pochi minuti si ricomincia grazie a tutti vieni preghiamo lenia prega per la liberazione nostro signore che stai nei cieli noi siamo di culienci che e siamo nei casini noi siamo gente semplice signore ma non siamo così semplici che non crediamo in te perdona i nostri peccati signore non sappiamo cosa facciamo perché non sappiamo cosa facciamo dio ci benedica lo stesso chiunque sia amen sapete che ora è le nove e un quarto le sei meno venti le tre e quindici non abbiamo l'orologio scegliete un'ora che vi piace le undici e quaranta alle nove e mezzo quello che preferite non capite il conte vi ha detto che ho a disposizione solo 24 ore da mio arrivo a culienci che per spessare la maledizione sono arrivato ieri mattina alle nove precise e ora sono le otto quindi ho a disposizione solo un'ora anzi meno di un'ora perché ho appena sprecato l'intero minuto buongiorno mamma buongiorno insegnante buongiorno insegnante e buongiorno papà tutti e tre giusti sarà un gran giorno oggi me lo sento e sei più bella che mai che dobbiamo fare? dottore con il tuo buto rispetto ho bisogno della massima concentrazione di sofia questa mattina perciò devo chiedervi di lasciare la stanza faremo in modo che nessuno vi disturbi arrivederci angioletto mio fai ciò che ti chiede l'insegnante se avrà successo insegnante ci avvisi con un segnale vada alla finestra e fischi tre volte a lungo e poi faccia un fischio breve seguito da sette fischi lunghi se fallisce fischi quattro volte con suoni brevi seguito da otto fischi lunghi se invece volete la colazione potete volete per favore uscire oh sofia la scorsa notte pensavo che il compito a disposizione fosse impossibile da realizzare che avrei fallito come tutti gli altri e avrei dovuto lasciare Kuliencik ma stamattina guardandoti negli occhi capisco che non esiste per me un futuro senza di te e allora dobbiamo provarci dobbiamo fare avvenire un miracolo cos'è il miracolo? un miracolo è un desiderio di Dio tu sei un miracolo sofia vuoi dire che Dio mi ha desiderato? in uno dei suoi momenti più sublimi oh scusami dobbiamo affrettarci allora questo è un libro di elementari nozioni matematiche si usa per insegnare la ripetica ai bambini molto piccoli e non credi che sia un po' troppo avanzato per me? no non credo sofia non possiamo andare più indietro di così allora la figura rappresenta il numero uno il simbolo per la singola unità un libro, un leon, una sofia, un dito allora io alzo un dito poi ne alzo un secondo uno, uno fa due potresti ripeterlo per me sofia? quale parte? uno uno più uno più uno fa due si 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 magnifico stiamo facendo progressi lenti progressi invisibili progressi ma sono molto orgoglioso di chi sei pronta per andare avanti? si con la storia spero di impararla bene come la matematica beh veramente credo che ancora non l'abbiamo imparata potrebbero esserci dei problemi continuiamo uno più due fa tre ma non l'avremmo finito con uno più uno? si se ti ricordi la risposta la ricordavo prima è necessario ricordarla di nuovo? certamente è necessario ricordarla di nuovo è necessario ricordarla per sempre ma tu mi chiederai per sempre quanto fa uno più uno? no quando ti ricorderai quanto fa uno più uno? allora potremmo andare avanti e studiare uno più due uno più tre ma fino a che non ti ricordi uno più uno allora la risposta uno più due è priva dei significati capisci? ma tu lo sai quanto fa uno più uno? certamente e allora perché devo saperlo io? se tu provi effetto per me mi dirai la risposta di quel volta te lo chiederò ma io non potrò essere sempre accanto a te tesoro tu devi sapere la risposta nel caso in cui altre persone te la chiedano nessuno qui mi ha mai fatto una domanda del genere e anche se sapessi la risposta non mi saprebbe dire se è giusto o sbagliato ma perché qui sono tutti stupidi ignoranti a causa della maledizione ti stai arrabbiando quando non mi fai domande simili mi dici sempre delle cose adorabili è questo essere intelligenti? no è la frustrazione e l'impotenza che mi fa essere così duro con te scusami ripartiamo dall'inizio uno più uno fa due ripeti uno più uno fa due ripeti no non devi ripetere la parola ripeti devi ripetere quello che dico prima ci siamo? bene uno più uno fa due ripeti com'eri da bambino? com'era da bambino? sei urlato di nuovo? no solo stavo pensando a perché ce l'ho messi al mondo e qual è lo scopo dell'esistenza umana lo scopo dell'esistenza umana? so via ne ho abbastanza devi smettere di fare domande il tempo a disposizione sta scadendo beh stai parlando bene no? so via tu devi rispondere alle mie domande non pensare a quello che vuoi che io ti chieda non esiste niente come la logica di una mente illogica riprendiamo dall'inizio credo che stiano parlando la lingua del codi l'ora ma quanto tempo ci mettono? buongiorno dottor Zubrischi che succede? credo che le stia insegnando la ginnastica dottor Zubrischi ho la lettera urgente per l'insegnante silenzio prego questa va a zona scolastica dottor Zubrischi ho un'urgente lettera per lui sopra c'è scritto urgente ho sbagliato il dirizzo solo tre volte prima di venire qui non vedete mio pubato? portatevela a buttare mi piace come sta andando proprio non mi piace come sta andando preghiamo preghiamo Dio che questo giovane ci liberi dalla maledizione credo che l'insegnante voglia parlare allora mia figlia è vuota oppure è sempre la stessa senta vorrei chiederle una cosa adesso che ho ancora l'intelligenza per farla vorrei la mano di sua figlia la chiedo ora che l'amo ancora perché tra poco non potrei neanche più conoscere il significato di questa parola quando l'orologio della chiesa parterà le nove spero che avrete una risposta per me è un bravo giovane educato molto ambizioso eh tu legna che ne pensi? certo se non riesce a spezzare una semplice maledizione come potrà portare la fagnotta a casa? e che ne dirà trema? chi? trema trema quello sulla collina quello che ci getta l'acqua mischi la ragione non permetterà mai questo matrimone la sua maledizione aspetta c'è una possibilità se uno straniero riesce a sposare una ragazza di questo paese prima di diventare come noi poi è libero di portarla via da qua questo non lo sapevo è stata aggiunta qualche anno fa la maledizione per renderla più emozionante non rivedrete più vostra fisia ma sapete che vi detelice che ci vengono ogni giorno più intelligente datelo dottore date a Sofia il vostro permesso e se non lo date a lei datelo a me non lo so è una decisione io non so prendere decisioni lasciamo fare addio lasciamo decidere addio che stai facendo Leon? i miei ultimi pensieri gli ultimi momenti di ragione mi dispiace tanto Sofia per non essere riuscito a farti volare oltre le montagne e i laghi come desideravi ma non ti lascerò rimarrò qui per sempre non illuminato dalla luce della tua bellezza ma coperto dall'oscurità della mia ignoranza oh Leon farei qualsiasi cosa per salvarti da questa calamità qualsiasi cosa no tu devi scappare devi fuggire per la tua vita ci sono molti altri ragazzi e altri villaggi che tu potrai amare ora ascoltami attentamente ricordatelo per sempre ti amo con tutto il mio cuore sentite le campane della chiesa il tempo è scaduto salvalo Sofia conserva nella mente ciò che ti ho appena detto ho la sua ultima possibilità di sposarsi conosco quei momenti dillo marito mio da loro il permesso di sposarsi tutto l'amore che ti avrei dato nell'arco di una vita intera deve essere compreso in questo istante finale addio dolce Sofia non ti amato a lungo ma ti amato molto aspetterò di vedere che ore sono vorrei dire a tutti quegli angichermiti che io sono le nove tutto va bene splendide notizie insegnante Dolcinski mamma papà l'insegnante voleva dire qualcosa ascoltiamolo l'insegnante non volevi dire qualcosa? sì ma tu hai detto a tutti di ascoltare un sguardo in colto che mi ha famigliato è lo stesso che è sul tuo volto noi che devo dire che noi tutti avremmo ascoltato ciò che avevi da dire oh capisco grazie però come ora non ho molto da dire non esiste uno stupido più stupido di uno stupido no giovanotto volete ancora sposare mia figlia? sposare vostra figlia? oh no mi rendereste un grande onore sapevo che non l'avrebbe fatto da quando comprò da me il pesce bianco ora basta circolare circolare su circolare se volete la vostra lettera urgente insegnante fatemelo sapere ora nulla è più urgente nella vostra vita a questo punto Sofia Sofia va in giardino a pianta della verdura stasera si mangia insalata giovanotto quali sono i vostri piani ora che tutti i piani sono andati in fumo non ne sono sicuro questa senza di pensieri non so dove mi condurrà il mio è solo un parere da dottore ma quando sei sotto una maledizione sei veramente sotto una maledizione mi dispiace Sofia stavamo facendo una lezione quando sono scoccate le nove che stavamo facendo? mi stavi dicendo che mi amavi e che avrei dovuto conservarlo nella mia mente perché presto non l'avresti fatto più non mi ami adesso Leon amarti non sono più tanto sicuro di sapere cosa significa questa parola forse se mi baciassi vorresti baciarmi? con tutto il mio cuore no io intendevo con so cosa intendevi so cosa intendevi Leon più sei ignorante è meglio mi baci è meglio bacio e più sono brillante guardami Sofia guardami e dimmi che cosa vedi un burattino no Sofia stai vedendo un uomo intelligente ispirato dall'amore non sono sotto la maledizione ho solo fatto finta di essere stupido hai finto di essere stupido? non mi sembra una cosa molto intelligente oh lo sarà te lo prometto ma la maledizione non ha avuto effetto su di me ma devo ammettere che ero molto preoccupato soprattutto quando sono scoccate le nove ma quando ho visto che non succedeva niente finalmente mi sono reso conto puoi essere maledetto solo se permetti a te stesso di esserlo la maledizione di Juliencito è autoinflitta è una suggestione una paura un senso di colpa indotto da un tirannico potere capisci quello che dico? tutto tranne la spiegazione se un genitore dal giorno della tua nascita ti dice che sei una bambina brutta tu crescerai pensando di esserlo qui dal giorno della tua nascita vi hanno sempre detto che siete tutti stupidi capisci ora? non meglio di prima si lo so che non serve a niente spiegartelo te lo devo dimostrare e siccome quando l'ho capito mi sono sentito particolarmente ispinato ho ideato un piano che spezzerà la maledizione che cosa consiste? tu sposerai Yusekiewicz stai ancora fingendo di essere stupido no Sofia non intendo dire che devi sposare il conte Gregor oh grazie al cielo mi hai spaventato a morte tu sposerai me io diventerò un Yusekiewicz capisci? non farmi più questa domanda abbia fiducia in me Sofia il matrimonio si farà domani domani io spezzerò la maledizione e tu sarai intelligente e intanto potrei avere un altro bacio oh ma certo però ascolta adesso devo assolutamente realizzare il mio piano oh Leona sono così emozionata stanotte libererò la mia mente da tutto il non senso per prepararla alla nuova conoscenza che sta per arrivare piano a inizio devo trovare il conte Gregor stava parlando di me ma voi piace l'insegnante vero? lui è meglio di me non è così? mi ammettiamo ma io rinuncerei a tutte le mie ricchezze e al mio potere se solo potessi essere un eroe non dovrei sempre indossare questa maschera la gente afflaudirebbe le mie entrate ma voi non mi state neanche ascoltando vero? a voi importa solo che quei due si mettano insieme bene io spero che piova quando uscirete da questo teatro buongiorno conte Iusikievich vi ricordate di me? io sono qualcosa qualcosa Tolcinski come sarebbe qualcosa non ho potuto fare a meno di origliare la vostra conversazione conte e ci tenevo a dirvi che anche se ho perso la maggior parte della mia intelligenza tutta l'intelligenza tutta l'intelligenza posseggo tuttavia ancora dei sentimenti e mi addolora a constatare che il fatto che voi non piacete a nessuno vi rende così infelice è facile per te dire così ma nemmeno a te piaccio non è vero? beh non mi dispiacete ma ti piaccio? no ma lo vedi? ma sapete perché? perché non fate niente per farvi amare perché non lo fate? sobre probabilmente ero predestinato ad essere così mio padre fin da piccolo mi ha insegnato che io se volevo mantenere il potere su quella gente non dovevo mai essere gentile con loro dovevo solo spaventarli farli tremare amare le piaceva il suo padre? beh era apposto il suo punto in realtà non le piaceva giusto? non lo direi a nessuno quando avevo nove mesi cercai di scappare di casa lo immaginavo beh conte l'unico modo per farsi amare è compiere un gesto di redenzione non c'è niente di buono che potete fare per questo villaggio tipo un barbecue? sì può essere un inizio ma io intendevo qualcosa di molto più in grande stile come per esempio spezzare la maledizione ma non posso farlo si spezzerà solo se Sofia mi sposa o sposa un altro Iusekiewicz non ce ne sono sono l'ultimo della stile ma potreste sempre avere un figlio ma se non sono neanche sposato sarà un villico ma non è che vado in giro a spassarmela e forse questo è il motivo della mia felicità ma non è necessario essere sposati per avere un figlio potreste sempre adottarne uno adottare un figlio? ma chi? io? tu? beh sono scapolo disponibile pronto non sono molto intelligente in questo momento ma lo sarò appena verrò rotto il sortileggio a dire la verità io ho sempre desiderato avere un figlio qualcuno da portare a pescare con me io non ho mai avuto un vero padre Leo ragazzo mio ora ci sono io va bene papà e tu pensi che dopo la gente mi amerebbe? ma ti amano già guardali guardali come ti sorridono scorridesa oddio ma è vero ma che Dio ti benedica ragazzo mio tu non sai cosa significa questo per me allora papà andiamo subito a firmare i moduli per l'adozione e poi lo andiamo a comunicare ai genitori di Sofia no 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 aspetta ancora un momento fammi guardare le loro facce grazie grazie mi dispiace per quello che ho detto prima ma magari in settimana possiamo andare tutti a cena insieme non abbiamo quel posto grande ma per il momento siete tutti invitati al matrimonio di mio figlio grazie 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 avuto un pensiero attravoce. Quale? Supponi che si riesca a rompere la maledizione e supponi che io scopra che sono veramente così. Arrivano, arrivano tutti e tutti! Ho una torta di frutta nel ferro. Ricordate, se sembro stupida perché faccio finta, fa parte del piano. Dovete essere orgoglioso di lui, Conte! Ah! È mio figlio da dieci minuti e non mi ha mai dato un dispiacere! Spero che si ricordi di darmi il suo nuovo indirizzo, eh? Siamo qui riuniti in questo giorno, cari amici, per essere testimoni dell'unione di due anime nel sacro vincolo del matrimonio. Ed è solo grazie alla volontà e alla benevolenza del nostro caro Conte se questa benedetto unione si può realizzare. Grazie! Grazie! Che lo sposo faccia un passo avanti! Eh, sei tu ragazzo mio! E che la sposa faccia un passo avanti! No, Sofia! La sposa! La sposa! Che ti succede a lei? Il tuo piano è stato geniale, Leon! Grazie, Sofia! Chi accompagna all'altare la sposa? Eh, io accompagno questa sposa! E perché accompagnate all'altare questa sposa? Perché lei lo ha chiesto e io ho dato un assento con un cerdo del capo e lui la sposa! Vuoi tu, Leon, figlio del Conte Gregor, Michalovic, Bersniewski, Fjöder, Yusekejnici? No, no, no! Fermi, fermi! No, no! Oggi vacanza! Grazie! 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 Vuoi tu, Leon, prendere Sofia, amarla e tenerla per l'eternità? Lo faccio! Lo voglio! Ah, voi lo volete? No, voi lo volete! Lui vuole! Lo fa! Dillo! Lui vuole! Lo fa! L'ho detto! Non dire quello che dico io! Devi dire quello che dice lui! E cosa ha detto lui? Lo voglio! Devi dire solo lo voglio! Mio padre dice che lo voglio! Io comincio ad odiare questa maledizione davvero a me! Vuoi tu, Sofia, prendere Leon in salute e in malattia nel bene o nel male, finché morte non vi separi? Lo voglio! Con un cervello così avrebbe potuto sposare chiunque! L'anello, prego! Eccolo! L'anello che Iuse doveva dare duecento anni fa alla giovane Sofia! Su, mettile l'anello al dito! E ora, ripetete dopo di me, con questo anello io ti sposo! Con questo anello io ti sposo! Solo la sposa e lo sposo! Grazie! Con questo anello io ti sposo! Prima che li dichiari marito e moglie! C'è qualcuno tra di voi che abbia qualcosa da obiettare perché questo matrimonio non si ha il fatto da fare? Allora, con il potere investitore e qualità di primo magistrato di villaggio di Cugliengieram vi dichiaro… Papà! Forse ci sarebbe un piccolo particolare! Avete da obiettare a questo matrimonio? Potete scommetterci! Questo ragazzo non è mio figlio! Questo figlio non è il mio ragazzo! Stai dicendo, papà! Ma tu pensi davvero che io sia pazzo? Perché dovrei rinunciare ad una ragazza attraente come lei? Hai il certificato di adozione? Ma è falso! Ti sei talmente fidato che non l'hai neanche letto! In quel certificato io non ti ho adottato, ho divorziato da te! Quindi non solo non sei mio figlio ma non siamo nemmeno moglie e marito! Dio mio! Mia figlia è quasi sposata ad un uomo divorziato! Leon, sono parte del piano? No Sofia, mi dispiace! Su, su! Non posso stare per tutto il giorno più… Bravo! Facciamo la svelta! Che c'è una camera con gli acuzzi prenotata da 200 anni per questo matrimonio! Mia figlia lo sposerà? Un impostore? Un impostore no! Ma un Yusekievich sì! Voi avete promesso la mano di vostra figlia ad uno Yusekievich, dottore! E una promessa va mantenuta! Questa è la legge! Io stesso l'ho scritta! E io l'ho votata! E io sono l'unico Yusekievich originale qua! Leon non ti oppone a questo matrimonio! Ma che posso fare? Non mi viene in mente niente! Andiamo, coraggio! Non posso stare tutto il giorno qui! E' vero! Cerchiamo di andare veloci! Io lo voglio! Chiudiamo a lei! Mi dispiace figlia mia, lo devi fare! Siamo ancora qui riuniti? Forse questa parte l'abbiamo già fatta! E vuoi tu Sofia? Devi andare avanti! E vuoi tu Sofia prendere il conte Gregor finché morte non vi separi? Dillo figlia mia! Serenica e intelligente! E' meglio che essere felici, no? Addio Leon! Lo voglio! Allora! Allora! Con il potere investitore in qualità di primo magistrato del Milano... Non avete letto l'altra parte! Quale altra parte? La parte se c'è qualcuno che obietta! E io obietto! Cosa? E per quale motivo? Perché... Perché non ho ancora ricevuto la mia lettera urgente! E che missione è questa? E' una lettera urgente per l'insegnante! Oh! Una lettera urgente per me! Che sorpresa! Beh allora andiamo avanti mentre lui legge questo diavolo di lettera! Avanti! No posso! E' contro la legge! E io ho votato anche quella! Oh! Ho paura che siano cattive notizie! Mio zio, il mio unico parente rimasto, è appena morto a San Pietroburgo lasciandovi solo i suoi debiti! Prima di morire ha detto che la colpa delle sue disgrazie era dei suoi parenti lontani, egoisti e vendicativi! E che neanche cambiando il suo cognome, Intolcinski, gli era servito a sfuggire alla infausta mano del destino! E quale era il suo nome prima di cambiarlo? Intolcinski? Iusekiewicz! Oh! Oh! I parenti lontani ti ossessionano sempre! Leon! Ti rendi conto di che cosa significa? No cosa? Giovanotto! Riprendete il vostro posto accanto a mia figlia! Questa volta sposerà la persona giusta! Mi sono inventato tutto! Questa è una lettera della mia università dove mi dicono che sono in ritardo di un anno con il pagamento della retta! Ho innescato una bomba nelle loro metti! E ora prego Dio per l'esplosione! Su su si sbrighi! Tutti al loro posto! No! Posso passare tutto il resto della mia vita a sposare questa ragazza! Tutti pronti? Sì! Vuoi tu Leon? Lo voglio! Vuoi su su Leon? C'è qualcuno che obietta? E uno! E due! E tre! E due! E due! E due! E due! E due! E due! Non ho mai sentito un rumore così forte in vita mia! Mi sento come se mi avessero aperto il cranio in due! Ho paura di chiederlo! No! No! Chiedi! Ma... E se sbagliassi? E se invece avessi ragione? Dillo! Dillo! Gatto! G-A-T-T-O! Gatto! Oh mio Dio! È un miracolo! È un miracolo! M-I-R-A-G-O-L-O! Miracolo! G-A-T-O! 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 voi queste parole? Penso di sì, chi altri avrebbe potuto? Nicolai mi sento le gambe devoli e mi gira la testa. Non preoccuparti tesoro, è solo il sangue che pulsa per emozioni. A volte può causare ipersecrezioni di adrenalina e quindi un improvviso appluso di sangue al cervello. Nicolai, ma io non sapevo che tu fossi un medico così brillante. Sono solo un medico generico. Mi preoccupo per te, perché ti amo tesoro. Ed io amo te. Anche quando non lo sapevo, io ti amavo. Leon, sei ancora come eri prima che io diventassi come sono adesso? Sono molto più di quello che sono mai stato e di che ho mai desiderato essere. Ti amo, Leon. Ti amo, Sofia. Allora è finita. La maledizione è veramente finita. Dovrei investire il mio denaro in terre. Non si va a bagno se si hanno proprietà e terreni. Beh, naturalmente dipende dalla situazione politica. Con l'attuale governo dello Zara riforma sulle proprietà terriere difficilmente attuabile. Che conversazione brillante. Non ho più nessun potere su di loro. Il potere è un'arma inutile contro menti illuminate, Conte Gregor. Qui siamo cittadini tutti uguali. Beh, forse gli uomini sono tutti uguali. Le donne sono sempre state sottomeste fin da prima che esistesse la maledizione. Lenia, sai che ti amo, ma il tuo mi sembra un punto di vista estremamente radicale. È stata la tua fede, il tuo coraggio a spezzare la maledizione? No, sono stati il tuo cuore puro e il tuo amore vero che hanno rotto la maledizione, non i miei piccoli sforzi. Non voglio discutere la questione. Credo soltanto che dovresti lasciarmi lo spazio per esprimere i miei punti di vista. I tuoi pareri sono benvenuti, Sofia, ma credo che dovresti conoscere bene tutti i fatti prima di essere così sicura. Beh, insegnante, vedo che il tuo desiderio si è verato. Proprio così. E voi, Conte, quali sono i vostri progetti adesso che siete intelligenti? Beh, grazie a te credo che da ora in poi dovrò lavorare per vivere. però ti auguro un bel matrimonio lungo, felice. Grazie e le auguro la stessa fortuna. Ah no, no, sono già stato maledetto una volta. Vita mia, cazzo, basta. se ci pensate, in fondo non è una storia una storia così bizzarra. della vita normale. Io, per esempio, dopo altri due anni passati in ufficio, cedetti alla sui ufficialità, accettai delle bustarelle in cambio di favori politici, ma, andai in prigione per questo e poi iscriverti le mie moglie e le vendette, guadagnando una fortuna. Io ho lasciato le poste, sono diventato un grande scrittore, ho scritto un romanzo di 600 pagine sulla maledizione di Kuliencikev e le ho inviato a un editore e le poste hanno perso l'unica copia del manoscritto. Io sono diventata una donna d'affari investendo in terreni. Oggi possiedo 18 case a Kuliencikev, compresa quella del conte. Poi, per ingrandirmi, comprai altre terre in altre città colpite dalla maledizione. Non ho avuto molto cervello. Io ho aperto altri due atelier in un villaggio dove ne bastavano solo e ho fatto bancarotta nel giro di un mese confermando i miei timori che, con o senza maledizione, non avevo molto cervello. Grazie alla nuova intelligenza finalmente ho trovato le mie pelle. Ho raccolto la lana e sono diventato un ricco filantro. E io quando ho visto che con Sofia non c'era niente da fare ho studiato teologia e adesso sono il paramoco di Kuliencikev. Mi piace, sono anche Orca. E quando c'è siccità io salgo in collina e canto e allora piovo. in quanto a me sono diventata la prima cittadina di Kuliencikev nonché sottosegretario generale del governo dell'Ucraina del Nord. mio marito può vedermi solo a suo appuntamento. Sono diventato uno dei migliori medici della Russia. Sono stato assunto dalla famiglia reale come medico personale e sono stato premiato all'Accademia delle Scienze. Tuttavia ho ancora delle difficoltà a prendere decisioni. Io sono rimasto il monumento del paese anche se non è ben chiaro che da presenti si dice un vecchio professore che per primo arrivò in questo luogo cercando di riportare l'intelletto ma che perse la sua battaglia contro il tempo. Quante storie ho visto passare quante ne potrei raccontare conosco i loro vizi e le loro virtù ma sono stato a tutta un pezzo e per questo non sarei credibile se proprio adesso mi piassi a parlare. Che Sofia Sofia era ed è un miracolo. Abbiamo qualche divergenza non tutte le nostre giornate sono felici ma lei possiede una saggezza che non si trova neanche nei libri è diventata la mia insegnante e io ho imparato che niente può distruggere un'anima pura e un amore devoto in quanto a me sono sempre un insegnante e ho dedicato la vita all'educazione dei non intelligenti e degli ignoranti. D'altra parte esistono così tante cuglienci che in questo mondo. è un'anima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.